io si via via rambambini questo è il vostro canale qui dovete dire rambambini bambine rambambambini bravi adesso che cosa facciamo? cuciniamo una sfida di cucina prima mettete in ordine vediamo in quanto tempo ci sapete tutto a posto io non voglio cucinare non voglio cucinare eh eh non si lanza le cose io non voglio cucinare basta non mi serve tu ti aiuti non voglio cucinare io dai 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 eeeh dai 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 ma cos'è? ci serve una cosa e non c'è la cane di cima ci serve quella perchè è una bella frutta no Questa roba è nostra Dov'è l'altra? Quale? Questa è una perla Le perle sono molto dolce Dai, dovete mettere la pasta su su ketchup No, non è perciato Dai Dai Cos'è questa roba? Ah, ah Chi lo mette a posto dentro il cassetto? È un biscotto all'aranza È un biscotto all'aranza È un mila banche, è un mila banche La biancheria svolta Ma io mi sono fatto tutto Una cosa dolce questa A me ha fatto tutto I dolci? Niente più dolci? Buona Tadadadadadadadadadadadadada Ci schicchi e le vana? haran Taran 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 Io si Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm La cosa dolce I biscotti non li volete li portali via? Dove se li portali via? Le portali via Ah dammi Bicchetti non ci sarà più mia ok buttali via la patata non volete fare qualcosa per le patate? ma non è dolce la pizza dolce la volete fare? no limoni niente eh quello che rimane lo dovete mettere a posto come? le uova vi servono per i dolci ok dai allora ora funzionate ok allora facciamo l'impasto con l'acqua e farina e le uova mettiamo l'uovo ed è fatto l'impasto ok poi lo mettiamo nel forno lo chiudiamo accendiamo e si aspetta si intanto operiamo l'impasto l'impasto per la torta vabbè qualche torta? migliaia fate delle torte? ok ok bisogna mettere di nuovo l'uovo acqua e farina eh tipo non so come si chiama cosa? è un oggetto cibo com'è che si chiama il cosa alla fragola la fragola la fragola nell'impasto così diventa tutto rosa e alla fragola vediamo cosa ci prepara Nasti aspetta qua c'è ancora il biscotto ci vuole un po' a cucinare eh no sento con l'ago ah Nasti dimmi da un po' a cucinare ma mi stavo usando le cose faccio e che io devo cucinare faccio una specie di brioche no brioche con la frutta lenta oh oh posso scegliere tra ok un'armelata lì un'armelata lì ti vuoi entrare ah 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 dai il coltello chiesa non fare la pasta in cucina col coltello che è eh ma magari hai dita aiutala ma hai scattato cosa con lei hai scattato la frutta e anche io ho la stella e anche io ho la stella no e poi Nasti la stella mettiamo tutto in giallo ok uh posso vedere come mescoli che cosa sai fare l'armelata poi bisogna come dire con un mattarello ah bisogna stenderlo bisogna stenderlo e farla riempirla nella marmellata e farla come a forma di una marmellata così lo metto solo lo fallo a Simone e Lisa cosa stanno facendo? io faccio la zumba e tu io sto mettendo in giallo un'altra porta ah un'altra ho fatto già trovare una stella ecco Nasti tu a che punto sei Rasti vai riempirlo come lo stai già riempendo? mh io ho fatto una stella e ora lo mettiamo tutto in forno sai sai come si fa? vai metti il forno ma nel fatto che ti nasi? e lo riempiamo di cioccolano la brioche la brioche vai vede uuuuh la brioche vai vai mettila dentro il forno per 20 minuti mezz'ora noi intanto guardiamo Pietro allora adesso il biscotto di prima lo facciamo un buco al centro e lo mettiamo di cioccolato uuuuh si e ho appena sfornato la torta di prima uuuu Simone ehi non si deruba non si deruba e adesso ho messo in forno già un'altra torta Simone Simone ma poi mandiamo di a te no no è mia è mia 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 ecco mi 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 mia è già finito, cosa stai facendo? Sto mettendo la panna e metto anche qualche fragolina qua ok, rifatto! Io ho già fatto tre dolci allora, sassiamo, vedete? Allora una terza, sassiamo tutti quanti, e questo che cos'è? E' il ketchup? E' il ketchup crudo che bisogna mangiare Allora, assaggiamo, su, su, ok No, assaggiamo lui, assaggiamo Prendete lui la forchetta, prendete qui la forchetta Ecco, la devo prendere qui Vabbè, 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 vabbè Ah, messi i piatti per tutti, aspettate E' messi i piatti per tutti Ok, piatto, 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 piatto e piatto E' a me? E' piatto, piatto Assaggiamo prima quello che ha fatto lei Assaggiamo, vai, assaggiamo Buono, aspetta, voto Voto Che ho piaciuto? Un'otto Ok Vai Ah, giusto, è vero Dovete dare un voto a tutti quanti al cornetto Che voto gli dai? Uh, siamo a 26 Vai Natti Uh, siamo a 35 35 appunto per la scena di Natti Vai, assaggiamo questa torta Una fetta per una, sono quattro fette Ah, sì Deve tagliare prima Aspetta, devi tagliare Ce l'ho io quella prima Bravissimo Vai Ma il Sky è buon quello Il Sky è buon quello Il Sky è buon quello È buona per la pizza No, quella è per la pizza È per la pizza È per la pizza Allora, il Sky è buon quello È buon quello Ecco una fetta per te Ah, è dentro Ma è proprio una sorpresa Spero di non mangiarlo No, vai Nel senso C'è la marmettata Nasti, vai Prima Nasti Andiamo Voto Dai Fatto 10 Mmm Lisa 9 Uh 19 Simone 10 Uh 19 Voto Simone abbiamo dato voto a 11 Eh, sì Eh 10 Ah, sentiamoci voti altissimi qua, eh Oh, è buona, eh Io direi Tu hai votato Ah, il mio voto deve ribaltare la situazione Vieni Vediamo Ma io ho fatto anche altri voti No, tu l'hai già assaggiata Non puoi assaggiata Però io dico che secondo me è più buono proprio Il cornetto di Nasti Sì Lo avete visto Sì Non ho fatto ribaltare la situazione Sono Sono Un Un Sono migliore di Alessandro Borghese Sì Sì 10 10 Salutiamo tutti Alessandro Borghese Salutiamo i nostri vero bambini Ciao 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 Ciao